Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati, appuntamento del 30 giugno con Mattino 6, ultimo appuntamento del mese di giugno. Oggi si ricordano i santi martiri di Roma. Noi apriamo come sempre la nostra rassegna stampa quotidiana con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Iniziamo con le edizioni del centro. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli principali del giornale Oggi Nedicola. Vedete in alto strisce invisibili, pedoni a rischio. Pescara in tutta la città, attraversamenti sbiaditi o coperti dall'asfalto rattoppato. Dunque problemi, pericoli per chi attraversa la strada. E poi il doppio lavoro dei sindaci, avvocati, vigili, cuochi. Che fatica governare i comuni. E poi, vedete, di spalla i titoli nelle cronache. Pescara dopo l'asilo. La curia vende anche all'Urd. E poi notte dei saldi. Domani la festa in centro a Pescara. E poi, per quanto riguarda la questione del nuovo stadio di Pescara, i cinesi pronti a investire tre giorni di incontri a Pescara per una delegazione cinese della provincia del Fujian per parlare anche della questione del nuovo stadio, soprattutto di un rapporto che si è già aperto tra il comune di Pescara, la Proger multinazionale che lavora nel campo delle costruzioni, delle infrastrutture, poi la Camera di Commercio di Pescara e anche e soprattutto la Pescara Calcio. Si è aperto un discorso importante che potrebbe portare proprio i cinesi ad investire sul nuovo stadio. Vediamo altri titoli. Dibattito nel Partito Democratico. D'Alessandro, l'esponente del PD, dice Gerosolimo ci rafforza. E poi cultura e polemiche, fondi fermi. Così si rischia la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febo. In basso, siamo a Montesilvano, falso incidente, altre due truffe, un'anziana derubata in casa, un'altra si salva. In extremis, poi il calcio, il calcio giocato, perché ieri, in occasione della presentazione di questa importante iniziativa, di questo importante protocollo firmato tra il Comune e la delegazione cinese, ovviamente era presente in Comune a Pescara anche il presidente della società Bianca Azzura, Daniele Sebastiani, che ha parlato di mercato. Poi vedremo a tal proposito l'intervista con il massimo dirigente pescarese. Andiamo avanti con la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Nuovo consiglio all'Aquila. Inizia l'era biondi, proclamati 32 eletti, la prima assemblea convocata entro il 18 luglio. Poi ancora all'Aquila, resa dei conti nel PD, Pietrucci accusa la triade. Poi concussione, sei anni a Guarino. Poi a Magliano di Marsi, Don Vincenzo celebra 70 anni di sacerdozio. In basso, De Angelis alla maggioranza. Siamo ad Avezzano, 15 consiglieri e niente anatra zoppa. Pronti però i ricorsi. E poi sul Mona, Caniglia finito, mio padre si rivolta nella tomba. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Una donna picchiata ogni sette giorni. Codice rosa, Teramo, numeri e storie da incubo al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini. E poi Giulianova, lungo corteo per ricordare Ester. Ricorderete questa vicenda di pochi giorni fa con l'omicidio dell'oncologa di Roseto. Poi Albadriatica, parla l'omicida con il ROM, litigio casuale. E poi emergenza, incendi, giorno di paura in provincia. In basso ad Albadriatica, addio alla spiaggia libera, ridotta dall'erosione e dalle concessioni che si allargano. E poi le analisi, Roseto Nord, il mare è tornato pulito. Siamo alla pagina del centro, la prima pagina del centro edizione di Chieti. Sette miglia famiglie in meno in quattro anni. Chieti, effetto crisi, poco lavoro, redditi in caduta, separazioni e natalità ai minimi. E poi Chieti, pub e locali notturni, pronti a chiudere ancora protesta degli esercenti della città di Chieti, soprattutto di Chieti Alta. E poi Villa Santa Maria, Chieti, sberle ai politici per le strade a pezzi. Vasto schianto in bici contro un muro. Muore un 19enne in basso a Lanciano. ZTL, il giudice annulla le multe. Tolti 97 verbali a uno stesso automobilista. segnali illegibili. E poi a tollo, maggioranza già in lite, leve, crea il suo gruppo. Prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Crolla la fiducia degli abruzzesi. La regione fa nalino di coda nella percezione del peso economico e politico. Fotografata da un'indagine, aumenta il divario con il Nord, ma anche con aree come Basilicata e Lazio. Leggiamo ancora a Sulmona, la Leopolda di D'Alfonso. Da oggi si terrà l'iniziativa di Fonderia Abruzzo. Poi vedete il titolo di spalla, beni culturali, l'aquila, modello di ricostruzione. E poi a Pescara, pericolo Bivacchi. Pescara e Montesilvano spuntano cartelli contro gli stranieri. In questo caso a Montesilvano, in particolare Blitz, nel tratto di Pineta occupato dagli sgomberati di via Ariosto. Poi vedete nuove rotte, missione Pescara tra affari e trabocco. Vedete la foto con il sindaco di Pescara assieme alla delegazione cinese arrivata in città. E poi in basso Chieti, gatto non curato, denunciata la ASL. Vediamo anche in alto altri titoli che riguardano gli appuntamenti di questa estate abruzzese. Tutto esaurito a Pescara per il concerto di Fabrizio Moro. A Rocca San Giovanni, Simona Molinari e Dario Salvatori. Al compleanno di Radio Delta 1, emittente radiofonica leader nella nostra regione, che compie appunto 40 anni e ci sarà questo evento a Rocca San Giovanni. Poi Mare Celtico, suoni e sapori d'Irlanda da oggi al Marina di Pescara. Siamo alla prima pagina del quotidiano della città. Botta in piazza, tramogli amante, un altro episodio di violenza in centro a termo. Una delle due è finita in ospedale, ferita al volto. Allora lasciamo le prime pagine dei quotidiani regionali oggi in edicole. Andiamo a vedere come sempre invece l'edicola nazionale per andare a leggere i titoli dei giornali, dei quotidiani nazionali che troveremo oggi in edicola. Ovviamente tanti i titoli, gli argomenti trattati nei quotidiani di respiro nazionale. Possiamo iniziare e partire dal Corriere della Sera. In alto si parla di politica, centrodestra, Berlusconi, ripartiamo dal sistema tedesco, guiderò io stesso la campagna elettorale. E poi il Casopel scuote il Vaticano, il cardinale incriminato per abusi sessuali in Australia, dice falsità dagli anni 70. E poi l'intervista a Max Biagi, uscito dall'ospedale dopo il terribile incidente di qualche settimana fa. Ho visto la morte e ho scoperto l'amore, questa la testimonianza di Max Biagi. Siamo alla prima pagina di Repubblica, gentiloni all'Unione Europea. Non lasciateci soli, si parla ovviamente del problema migranti, con l'Italia costretta a far fronte a una situazione veramente difficile. Poi in alto pedofilia incriminato pelle, il Papa processate, il cardinale e poi il quotidiano La Stampa di Torino. Aiuti sui migranti o vincono i populisti al vertice di Berlino, gentiloni preme su Macron perché apra i porti francesi alle navi. E poi vedete la foto a centro pagina, il palco di Vasco, grande come un condominio perché si avvicina all'appuntamento di Modena con il grande concerto di Vasco Rossi che vedrà davvero numeri impressionanti di partecipazione. Prima pagina del Fatto Quotidiano, stalking depenalizzato, solo una multa per i molestatori. Questa è la notizia, il titolo principale della prima pagina del Fatto Quotidiano. In alto, il cardinal penne i guai per abusi sui minori e poi Super Milano rischia di fallire. E sala pure, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale, bomba immigrazione, altro che porte chiuse, dentro altri 5.000. E poi uccidono anche la speranza. Ciao bimbo, Charlie e poi Berlusconi. La politica, ecco la mia nuova rivoluzione, parla l'esponente di centrodestra. Libero, non se ne può più di sbarchi, questo è il titolo del Quotidiano. Libero, chiudete i porti e che sia finita. E poi il cardinale che sussurrava ai bambini, vedete questa foto, pel accusato di pedofilia, il Papa lo manda in Australia. Siamo al Quotidiano La Verità, da domani il fisco vi svuota i conti, via libera al prelievo diretto, in caso di cartelle arretrate. E poi vedete in basso, i Renzi tremano, Woodcock indaga ancora. Napoli prosegue l'inchiesta che ha coinvolto Babbo Tiziano. Altre conferme sulla fuga di notizie, scrive il Quotidiano La Verità. Il manifesto Mare Vostrum, si parla dalla foto, a centropagina della questione immigrati, di come l'Italia chieda aiuto e collaborazione all'Unione Europea, soprattutto una ripartizione dei migranti sicuramente più giusta, visto che alcuni paesi hanno mostrato di gradire poco la presenza di queste persone, che l'Italia strappa quotidianamente alla morte con i salvataggi in mare. Il Quotidiano Il Dubbio, Juncker, l'Italia eroica, aiutiamola, Grillo, l'invasione è colpa di Renzi. Anche sul Dubbio si parla di questo argomento davvero molto caldo. E poi 26 milioni di immigrati, il dossier, tanti saranno. Nel 2050 siamo alla prima pagina del tempo. Tempo che scrive, Unione Europea e Governo chiacchierano, i barconi arrivano, sbarchi su del 13%. Avanti così e tra 30 anni metà della popolazione sarà straniera. E poi lo vedete nella foto dell'Utri, valanga di firme per dell'Utri, centinaia di adesioni alla campagna del tempo, dell'Utri che è in carcere, carcere che non sarebbe compatibile secondo i medici con le condizioni di salute del politico siciliano. E c'è questa battaglia che sta portando avanti il tempo. Siamo alla prima pagina del messaggero. No di Macron, ultimatum dell'Italia, emergenza migranti. Gentiloni a Bruxelles dice che servono aiuti concreti. Poi l'inchiesta pedofilia scuote il Vaticano, incriminato il Cardinale Pelle. Il Papa lo congeda. E poi pensioni per i giovani, un assegno garantito e integrative detassate. Il quotidiano avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Charlie, senza scienza e senza più speranza, oggi spente le macchine. Il dolore dei genitori per questa bimba. Una vicenda che ha scosso ovviamente un po' tutti. E poi vedete in basso anche avvenire, parla della vicenda del Cardinale Pelle a processo. E proprio il prelato dice io innocente. E poi punire i clienti. Furlan, segretario nazionale della CISL, in corso il convegno, dice una legge per fermare la prostituzione. Siamo al secolo XIX, il quotidiano di Genova. Italia in pressing su Macron. Migranti, Gentiloni chiede a Parigi di aprire i porti, altrimenti vince il populismo. Il quotidiano di mattino, sbarchi lo schiaffo di Macron. Aiuti solo per chi ha lo status di rifugiato. Porti chiusi, ultimatum di Minniti. Gazzetta del Mezzogiorno, migranti, l'Europa in barca. Gentiloni chiede aiuti concreti. Juncker apre ma Macron, il neopresidente francese, lo frena. L'ultimo giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, che prendiamo in esame nella rassegna stampa nazionale. A proposito di rassegna stampa nazionale, possiamo andare a vedere anche, poi parleremo in maniera dettagliata di sport, nell'ultima parte di mattino 6, possiamo andare a vedere anche i titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, con un servizio, lo vedete a tutta pagina, su Claudio Ranieri. Ranieri oggi e domani dal mercato al campionato. Parla il tecnico Giramondo, che allenerà nella prossima stagione in Francia. E poi, in alto, cosa resta del sacchismo? Si parla ovviamente di Arrigo Sacchi, dei trofei della storia dell'ex tecnico del Milan, della storia del calcio recente. Poi Conti Rossoneri, ormai ci siamo, Donnarumma, lunedì si decide, Conti, giocatore dell'Atalanta, ormai ad un passo dal Milan, e lunedì prossimo si saprà se Donnarumma sarà a difesa della porta del Milan, anche nella prossima stagione. Poi in basso vedete Biaggi, dopo la paura all'amore, anche la Gazzetta, come diversi quotidiani, dedica ampio spazio all'intervista di Max Biaggi, che racconta dell'incidente che era accaduto qualche settimana fa, Biaggi ricoverato per diversi giorni in ospedale. Corriere dello Sport, saldi chi può, le occasioni da non perdere, dunque tanti giocatori a prezzi, per così dire modici, in vista del mercato, che domani aprirà ufficialmente i battenti. Domani, primo luglio. Poi in alto, Juve, svolta Danilo, Milan, sesto colpo, è fatta per Conti. firma in arrivo, chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, Juve, Danilo, sì, Bernardeschi, ora ci siamo, e poi Toro, assalto, triplo, Simeone, paletta, e Cucca per la formazione Granata, che ovviamente trova sempre grande spazio sul quotidiano torinese Tutto Sport. Allora abbiamo visto l'edicola dei giornali nazionali di cronaca, per così dire, e poi abbiamo visto anche le prime pagine dei tre quotidiani sportivi oggi in edicola. Possiamo a questo punto ripartire dai quotidiani di casa nostra, per andare a vedere i titoli che riguardano la nostra regione, i fatti più importanti. Tra l'altro vedremo anche dei servizi che abbiamo realizzato per i nostri Tg, sui fatti di cronaca, di politica, e di sport, che sicuramente interessano maggiormente i nostri telespettatori. Allora possiamo partire dal centro, pagina 2, perché c'è una doppia pagina interessante, sui primi cittadini che fatica a governare i comuni, tanti sindaci che ovviamente sono politici, ma ovviamente svolgono un'attività professionale nella vita di tutti i giorni. Vedete avvocati, medici, impiegati, il doppio lavoro dei sindaci, quasi tutti conciliano l'incarico pubblico con la professione e chi può usufruire di aspettativa spesso non la prende, perché lo stipendio è magro. Vedete, poi ci sono le varie storie, Finamore, Cuoco alla Camera, Villa Santa Maria e Monte Lapiano, poi a Ortona il neosindaco Castiglione, il mio lavoro con i detenuti, Castiglione è assistente capo della Polizia Penitenziaria e in servizio a Pescara, da poco eletto sindaco di Ortone, poi Montebello di Bertona, fidanza operaio con la passione per gli alpini, poi Crogna Leto, D'Alonso, il vigile del fuoco con la fascia tricolore, a Teramo, Brucchi, chirurgo, bisturi e municipio per il primo cittadino di Teramo. Tante storie riportate oggi dal Quotidiano Il Centro. E poi caos migranti, in questo caso si parla di una notizia di respiro nazionale, ovviamente con l'Italia in pressing sull'Unione Europea, poi si parla a pagina 5 dello scontro tra Renzi e Pisapia, dunque uno scontro tutto interno al centro-sinistra. Noi andiamo avanti per andare a vedere insieme però le pagine che riguardano la cronaca regionale. Partiamo dalla cronaca appunto che riguarda l'Abruzzo, la politica, la nascita di un nuovo movimento politico nella nostra regione, Abruzzo insieme, Gerosolimo ci rafforza, presto altri movimenti, Abruzzo insieme, il movimento fondato dall'assessore regionale Gerosolimo e su questa vicenda parla l'esponente del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, che dice l'assessore lavora dentro l'alleanza di centro-sinistra, le regionali del 2019, se vorrà presentarsi, c'è lo strumento delle primarie. E poi, oggi e domani, a Sulmona, parte Fonderia 2017, al centro, i temi del post-sisma e dei porti, l'iniziativa politica fortemente voluta dal governatore della regione, Luciano D'Alfonso. Andiamo avanti, Febbo, fondi fermi, così la cultura rischia di morire. Questa la denuncia, l'allarme del consigliere di Forza Italia, che dice al Marruccino si va verso il default, la replica di Paolucci, l'assessore regionale, ok per il 2016, variazione per il 2017. Questa è la risposta di Paolucci. Siamo alle cronache dalle nostre province, partiamo da Pescara, strisce fantasma, sbiadite o inesistenti, rischio per i pedoni, per le vie della città, a caccia degli attraversamenti invisibili. Vedete come in alcune strade, praticamente, le estrice siano davvero invisibili. E poi lavori al depuratore, sequestrati gli atti nella sede dell'ACA, blitz, ieri dei carabinieri forestali, aperto fascicolo contro ignoti, la procura ipotizza il reato di frode, nelle pubbliche forniture. E poi, oggi la protesta in Via Venezia, i lavoratori soggetti in sciopero, stop ai nostri licenziamenti, e poi, funerali a Fontanelle, in 200 salutano la madre spoltorese, che era morta la settimana scorsa, per le ustioni riportate, nella preparazione di un barbecue. E poi a Via Isonso, morto l'anziano, intrappolato in casa, invalido, aveva 94 anni, da 5 anni, era in attesa dell'ascensore. Andiamo avanti, i pellegrinaggi non tirano, la curia vende all'Urd, parliamo della curia di Pescara, perché dopo l'ex asilo, acquistato con l'otto per mille, e ceduto quasi allo stesso prezzo, ora spunta la casa del pellegrino, pagata mezzo milione, e rivenduta alla metà. E poi, Paolo VI, le famiglie scendono in piazza, e chiedono di non fermare le cure, per le persone, per i giovani bisognosi, ma non solo, che si rivolgono quotidianamente, all'istituto Paolo VI di Pescara. Siamo sempre a Pescara, Pescara si apre al mercato asiatico, i cinesi sono pronti ad investire nel progetto del nuovo stadio, la visita di tre giorni della delegazione cinese, nella nostra città. Ieri la presentazione di questo protocollo, a Palazzo di Città, possiamo andare a vedere dunque il servizio, che abbiamo realizzato, curato da Alfredo Primante. Sindaco, ospiti in città, una delegazione di investitori cinesi, insomma, Pescara si apre all'Oriente. Sono stato in Cina, tre settimane fa circa, sul solco che il sistema produttivo abruzzese, guidato da Proger, da Pescara Calcio e da Camera di Commercio, aveva tracciato nell'immediatezza dopo Pasqua. I tempi sono rapidissimi, e già c'è, diciamo, il progetto è una realtà. Il governo cinese va molto sul serio sul calcio, ha previsto obiettivi, vincere la Coppa del Mondo entro il 2050, finanziamenti. Il calcio è una passione, naturalmente collettiva, però è anche un modo per entrare nelle società e nelle economie dell'Occidente. Il progetto è quello di costruire le football town, le chiamano loro, cioè delle porzioni di città in cui ci sia uno stadio, in cui ci sia un'accademia, per il settore giovanile, di più spazi commerciali. Oggi siamo qui per stabilire reti e relazioni, per favorire la vista del mio omologo, sindaco di Fusù, questa città che conta 7 milioni e mezzo di abitanti, che è la capitale di una provincia importante, anche dal punto di vista della geopolitica, perché il leader del Partito Comunista Cinese viene da lì. E quindi oggi lavoriamo per essere come Marco Polo, con 800 anni in più. Avete proposto il progetto della cittadella dello sport, quello che avete presentato qualche giorno fa? Di questo ci hanno chiesto l'UMI, ne parleremo direttamente col sindaco di Fusù, allorché dovrebbe essere la seconda settimana di agosto, anche in concomitanza appunto al fatto che degli allenatori, delle giovanili della Pescara Calcio stanno partendo per la Cina per stare a spese del governo cinese, per stare un mese onde diffondere appunto la pratica del football e portare poi ospite qui a Pescara una delegazione di 15 ragazzi cinesi che saranno un po' le avanguardie di questo rapporto, che dal calcio appunto mira ad ampliare il proprio ambito di operatività. Stiamo a Pescara, vigile al lavoro fino all'alba, domani la notte dei saldi e poi l'ex FEA da monumento al degrado a Museo d'Arte Moderna, dunque per l'ex FEA che si trova in pieno centro a Pescara. Andiamo avanti, siamo a Montesilvano, la banda delle truffe, falso incidente, un'altra anziana derubata, la vittima ha 82 anni e poi chiesa in via Giovi, caso infinito. Oggi la commissione urbanistica discute del nuovo luogo di culto a Villa Carmine. Proseguiamo, svincolo per via Chiarini, meno smog sulla Vestina, siamo sempre a Montesilvano dove è stata aperta la nuova bretella, l'uscita della galleria I Pianacci. E poi migranti, stamane l'apertura delle buste, i posti sono 1114. E poi siamo nell'area metropolitana di Pescara, lo Sport Fitness Festival per tre giorni a Francavilla. E poi a Manopelo, strada 539, i lavori spediti per il viadotto, mentre a Pianella, ieri, Coldiretti ha festeggiato l'inaugurazione della nuova sede. In basso ancora Francavilla, via all'estate per i bambini, nel quartiere San Franco. Ora andiamo avanti, ma prima di andare a vedere le altre notizie dalle cronache delle nostre province. Possiamo fermarci per qualche attimo e andare a vedere insieme le provisioni del tempo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci qui di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Stavamo leggendo dalle pagine del centro le cronache dalle province. Siamo alla pagina della provincia di Pescara, di Penne, di Popoli e dell'Alta Val Pescara. Titolo a tutta pagina sulla manifestazione che si è tenuta ieri sera, ieri pomeriggio, a Pescara per le vie del centro. L'ospedale non si cancella. La protesta arriva a Pescara. In difesa del San Massimo in circa 600 hanno sfilato fino alla prefettura. Il sindaco di Penne Semproni dice che non abbiamo più fiducia. È solo l'inizio. Noi possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri pomeriggio proprio in occasione della manifestazione che c'è stata a Pescara. Tanti i sindaci dei comuni dell'area Vestina presenti nel capoluogo adriatico. Vediamo. Oggi protestiamo non per campanilismo, per Penne, per Loreto, per Picciano. Protestiamo per un'area intera perché la dignità di 50.000 persone non può essere calpestata. 50.000 persone hanno il diritto sacrosanto di vedersi difesa alla loro salute. Qual è il timore vostro in merito proprio all'ospedale? Iniziamo dal fatto che c'è l'accorpamento di due reparti come medicina e geriatria. Il timore di molti, soprattutto anche tra i dipendenti, ma anche tra gli utenti, è che alla fine di luglio, di agosto, quando dovrà essere sciolto questo accorpamento, le cose resteranno così. Questo ci è già stato così, purtroppo, dato come esperienza perché in passato anche l'area chirurgica era stata inizialmente accorpata per poi essere così sciolta nei vari reparti che la costituivano e in realtà poi è rimasto tutto come prima. Avete protestato a Penne, oggi siete a Pescara, andrete avanti, fino a quando non otterrete risposte? Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini. Questo, come le dicevo, è il primo passo di una protesta che si svolge qui a Pescara, ma siamo disposti anche ad andare all'Aquila e in regione, non ci frenerà nulla. Questo è il servizio con l'intervista realizzata al sindaco di Penne, Mario Semproni. Siamo sempre sulle pagine del centro, coronache dalle province, in basso multe all'orta, il WWF dice paradossale l'intervento dei politici, si parla del caso dei 68 turisti sanzionati. Pagina di Chieti del centro, effetto crisi, crollano le famiglie, meno 7 mila in 4 anni, e poi i segnali non si vedono, annullate 97 multe, Lanciano, il giudice di pace, annulla le contravvenzioni fatte tutte allo stesso conducente in 4 mesi. Poi, l'ennesimo incidente mortale nella nostra regione, si schianta con la bici sul muro e muore, vasto immigrato, 19 anni, perde l'equilibrio e raggiunto un anno fa in città dal CAS di Casali in Contrada. Andiamo avanti, pagina di Teramo del centro, violenza sulle donne, maltrattamenti in famiglia. C'è un caso a settimana, sono i codici rosa arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini. E poi, le storie raccontate dal medico dell'ospedale, Maria beve per paura, non denuncio, lo amo. E poi, Ester, siamo noi, in centinaia al corteo di Giulianova, in ricordo, in memoria dell'oncologa uccisa e dopo la sfilata si parla di stalking e soprusi. lasciamo le pagine del quotidiano il centro per andare a vedere insieme, lo faremo come sempre tra qualche istante, le pagine delle cronache provinciali dell'inserto Abruzzo del messaggero. E poi, come detto, nell'ultima parte parleremo di sport e vi proporremo una interessante intervista al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che fa il punto sul mercato biancazzurro, perché da domani arriveranno le prime ufficialità degli acquisti, perché domani, primo luglio, ufficialmente si aprirà il mercato e solo da domani potranno essere ovviamente depositati in lega i contratti, ma il Pescara ha già concluso diverse operazioni di mercato in entrata. Ne parleremo tra poco, ora ripartiamo dal messaggero, economia e politica, l'Abruzzo scivola in zona retrocessione, un'indagine, svela il basso grado di fiducia percepito dai cittadini, in aumento il divario con il Nord, ma anche con Basilicata e Lazio, per il politologo Antonello Canzano si è rotta la simmetria tra stabilità e sviluppo, la ripresa è iniziata, ma manca l'impatto sulle aspettative della gente, dice l'economista Augusta Consorti. Grandi idee, grandi opere, a Sulmona prende il via la Leopolda d'Abruzzo, ministro e governatori a conclave con D'Alfonso, nella Abbazia Celestiniana, il punto sui progetti, si parlerà soprattutto di post-terremoto e poi la risposta del Movimento 5 Stelle con le giornate Russo, l'Open Day e Penta stellati. Poi ancora politica, Gerosolimo all'incasso, nasce a Bruzzo insieme il principale regista della vittoria di Avezzano, vara il suo gruppo con Berardinetti, Olivieri e di Matteo. Andiamo avanti, cronaca notizie da Pescara, cinesi pronti ad investire su Pescara, il progetto della Football City di Sebastiani va avanti e apre scenari per scambi commerciali e imprenditoriali, ma lo abbiamo detto, abbiamo visto anche il servizio di Alfredo Primante qualche minuto fa, si parla di una possibile investitura cinese anche per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio di Pescara. In basso, porto turistico addio, Mediterranea punta sulla vetrina mondiale di Milano e poi l'inchiesta carabinieri forestali all'aca sequestrati gli atti per il raddoppio del depuratore. Andiamo avanti, delitto in alto mare, il fidanzato è stato interrogato, parliamo della scomparsa di una brasiliana in mare a largo del mare Adriatico mentre si trovava su una nave da crociera il collega della marittima brasiliana scomparsa a largo di Pescara aveva un'altra prende corpo il movente passionale e poi interessi legittimi banca condannata liquidati 150 mila euro ad un imprenditore e poi pericolo bivacco cartelli antistranieri Montesilvano provocazione nella notte in Pineta contro gli sgomberati dal ghetto e poi penne marcia in difesa dell'ospedale slogan dell'agente contro ASL e regione abbiamo appena visto il servizio con l'intervista al sindaco di Epenne Semproni poi spettacoli notti di note a Pescara c'è il tutto esaurito per il concerto di Fabrizio Moro e poi mare celtico la marina alla marina di Pescara suoni e sapori d'Irlanda e poi l'altra iniziativa l'impresa Pescara Caponord una volata con gli aviatori pescaresi siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero nuova giunta i primi passi Forza Italia la fa da padrone gli azzuri chiedono quattro assessorati e non mollano la presidenza dell'assise due posti a testa potrebbero toccare sia a Fratelli d'Italia che ai salviniani e poi ballano solo 41 voti c'è il rischio ricorso e si parla di Anatra Zoppa e poi Palazzo Centi aggiudicati i lavori in basso la sentenza guarino condannato a sei anni il colonnello dei carabinieri accusato di concussione nei guai anche Cordeschi andiamo avanti sempre con la pagina in questo caso di Avezzano sul buono a Passa De Angelis siamo ad Avezzano proclamato sindaco di Pangrazio va al Tar il presidente del tribunale sciolto ogni dubbio ed assegna i 15 consiglieri alla nuova maggioranza adesso auspico una pacificazione il primo cittadino uscente però non ci sta lo vediamo anche dal titolo e dice verificheremo Roccapia cervo investito e ucciso sull'alto piano a Carsoli specialista in furti arrestato un latitante e poi ad Avezzano Saldi c'è il giallo perché sarebbero iniziati in anticipo vediamo altri titoli nella parte bassa della pagina e ci spostiamo in questo caso in Valle Peligna a Sulmona margiotta alla presidenza del Cogesa fa infuriare la maggioranza dei sindaci manca l'imprimatur del collegio dei revisori dei conti e poi biblioteca chiusa scatta il presidio di protesta siamo alla pagina di Chieti la regione non dà i contributi sul maruccino lo spettro del default Febbo consigliere regionale di Forza Italia attacca D'Alfonso e dice ora basta con le letterine servono i soldi il teatro non paga gli stipendi da due mesi e va avanti solo con i fondi del comune meningite migliora la studentessa ricoverata non ha più la febbre questa è sicuramente una buona notizia per questa 22enne e poi non aveva soccorso un gatto di Pasquale denuncia veterinario della Asli in basso squadra di rugby sfrattata la protesta arriva in comune in questo caso siamo a San Buceto e poi sempre a San Buceto asilo privatizzato la rabbia dei genitori su questa vicenda qualche giorno fa vi avevamo proposto anche un servizio in merito pagina di Lanciano Vastortona dipendente comunale a spasso Pupillo conferma le accuse lotta all'assenteismo sotto processo un'impiegata che il sindaco incontrò per strada nell'orario di lavoro e poi a Tessa la Sevele Sciopero degli straordinari e poi dal vinile ai social Molinari e Salvatori all'evento per i 40 anni di Radio Delta 1 evento che si terrà questo pomeriggio a Rocca San Giovanni a Lanciano Renzetti maestro Donato Renzetti aprirà la stagione dell'ente manifestazioni frentani con Rossini e poi a Vasto fuoristrada con la bici muore Ganese 19enne ad Ortona Verde Tombini e Spiaggia il sindaco Castiglione il neosindaco di Ortona Leo Castiglione ordina la pulizia siamo alla pagina di Teramo cremazione c'è il via libera Teramo ambiente il bilancio inattivo dalla giunta comunale il nulla osta sarà ampliato il centro di Carapollo e poi Brucchi sindaco di Teramo dice ridurre le consulenze esterne pulizia in città da migliorare e poi l'omicidio di Alba Adriatica parla l'albanese che dice incontro casuale con Manuel e poi ancora cronaca maxi sequestro sulla costa di Figdet Spiner Taroccati questa operazione dei carabinieri del NAS di Pescara a Roseto e Pineto incendi su lungo mare e allarme e poi in basso il rogo della Richetti 76 dipendenti in cassa integrazione siamo alla pagina di Giulianova della Val Vibrata crisi risolta il sindaco riaggancia il PD stasera alle 19 tutti in aula per la giunta però bisognerà scegliere le energie migliori ed evitare pericolose ed interessate compagnie sindaco Mastro Mauro sindaco di Giulianova scrive a Di Sabatino sull'Ipias mentre Ranalli approva il primo bilancio della Giulianova patrimonio ancora Giulianova il ricordo di Esther con la mamma di Jennifer c'è stata questa fiaccolata nella città Giuliese poi in Val Vibrata Martinsicuro e Tortoreto si insediano i rispettivi consigli comunali andiamo ancora avanti siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo attendere ancora qualche attimo prima di parlare di sport di calcio in particolare ma anche di ciclismo per andare a vedere lo faremo tra qualche istante invece le pagine interne del quotidiano la città anche in questo caso andremo a vedere quali sono gli argomenti trattati all'interno del giornale possiamo partire da pagina 3 con la cronaca regionale rifiuti piano buono ma basta con i ritardi legambiente WWF fanno le pulci al documento appena stilato dalla regione Abruzzo e poi politica dopo Civitella torna la fonderia di D'Alfonso a Sulmona poi in basso diritti civili detenuti la regione elegge il garante il consigliere Leandro Bracco chiede di rompere lo stallo su Rita Bernardini andiamo avanti sicurezza niente tavoli e sedie durante la coppa Interamnia ideora di piazza Martiri a forte rischio rimozione nelle due sere clou della sfilata di Miss e Mister cronaca anziana truffata finto avvocato le spilla 15.000 euro e poi in basso ancora cronaca moglie amante si picchiano in piazza per gelosia la crisi a Teramo centro-destra spaccato in due per il dopo Brucchi da una parte i due Paoli dall'altra ci sono i Dalmati fratelli di alleanza nazionale e direzione Rudi morra mediatore con il sindaco nel mezzo davvero un bel puzzle da dipanare poi in basso le opposizioni c'è una regia per presentarsi dal segretario prosegue il lavoro al coperto per sfiduciare il sindaco e vedete anche in quest'altra pagina le foto dei consiglieri comunali e dei capiruppo ma anche di coloro dei politici soprattutto consiglieri regionali che hanno diciamo fondato questi questi gruppi che appoggiano in comune il sindaco Maurizio Brucchi e anche Brucchi punta al ruolo di capobastone stavamo proprio dicendo questo perché una cifica una lista civica affidata a Ciarroni per pesare nel futuro del centrodestra questo sarebbe l'obiettivo del sindaco Brucchi Teramo Ambiente sta licenziando il super dirigente Stirpe per il sindaco è tornata la pace tra comune e partecipata ma nella sua ricostruzione stridono molti particolari andiamo avanti rogo della Richetti iniziata la rimozione dell'amianto vigili del fuoco e tecnici specializzati proseguono la bonifica dalle analisi nessun danno alle culture poi l'appello del consigliere regionale Leandro Bracco che dice la regione deve tutelare l'occupazione super Abruzzo può superare tutto oggi in piazza Martiri a Teramo la carmes dedicata alla ceramica castellana con festa in serata invece per quanto concerne il commercio notte dei saldi per rilanciare lo shopping in centro storico impresa 29 premiati per la fedeltà al lavoro domenica la camera di commercio la sessantesima edizione della cerimonia dedicata ai lavoratori più longevi andiamo ancora avanti per arrivare alle pagine della provincia emergenza idrica attivato il potabilizzatore il Ruzzo ottiene l'autorizzazione dalla regione Abruzzo per mettere in funzione il costoso impianto di Montorio e poi a Campli solidarità agli alunni dopo il sisma e poi la copertura della piscina di Bisenti e un monumento allo spreco e poi Val Vibrata Tortoreto martedì la festa per la ventesima bandiera blu e poi Civitella del Tronto fortezza penalizzata dalle strade da Terzo Mondo poi ad Alba Adriatica parliamo dell'omicidio della settimana scorsa l'assassino presunto assassino dice non volevo ucciderlo l'albanese Fatim Koldaschi interrogato dai magistrati avrebbe dichiarato che l'incontro con Emanuele Spinelli è stato del tutto fortuito in basso ambiente girotondi di bambini in spiaggia per la tutela dell'acqua del Gran Sasso e poi Emilio Pepe il contadino imprenditore da studiare nelle scuole pergamena d'onore al Patriarca Vignaiolo d'Italia per il traguardo delle 50 vendemmie andiamo ancora avanti pagina di Giulianova Mociano Giulianova le norme sulla sicurezza generano mostri saggio di danza in Piazza del Mare spostato nel cortile del Cursal per evitare situazioni di calca il pubblico è stato chiuso in trappola ovviamente ci sono le nuove norme di sicurezza dopo la circolare del Ministero degli Interni e anche per organizzare eventi all'aperto sono aumentate le misure di sicurezza mare inquinato niente bagni 300 metri a nord della foce del fiume Tordino e poi politica consiglio saltato le opposizioni chiedono la testa del sindaco Mastromauro è proprio in basso il sindaco chiede di conoscere lo stato del Lipias la scuola media Pagliaccetti sorge a pochi metri ed è insicura e poi trasporti ferrovia adriatica in tilt ieri per incendi lungo la linea tra Abruzzo e Molise pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi no al parcheggio in piazza Re di Puglia Pavone e Di Marco pungono il sindaco sulle criticità di Colonia e sugli agri camping tornano a suggerire una variante urbanistica ancora Roseto rimosso il divieto di balneazione sulla spiaggia nord mentre a Pineto la ciclabile è una colata di asfalto sulla duna del Cerrano in basso ancora Roseto una settimana di tolleranza per le strisce blu da mercoledì vigili in strada per aiutare gli automobilisti a familiarizzare con la novità bruciano le palme del lungomare di Roseto l'incendio è partito da un deposito comunale costa flagellata dalle fiamme alimentate dal vento forte vedete proprio le immagini di questi incendi che hanno colpito soprattutto ieri a causa delle alte temperature il litorale della provincia di Teramo ma incendi ci sono stati anche in provincia di Pescara il turismo ducale riparte riaprono il Duomo San Francesco ed il Museo da domani itinerari guidati e accompagnatori guideranno i visitatori alla scoperta delle meraviglie in questo caso di Atri andiamo ancora avanti pagina della cultura Diacovo quinto romanzo con film confessioni di uno zero uscirà in autunno e poi approderà sul grande schermo Giovanni Diacovo che vedete nella foto che è anche assessore alla cultura del comune di Pescara arriviamo alla pagina di persone ed eventi manifestazioni in questo caso con Atri ancora protagonista dove si scatena la fantasia dei mattoncini a Palazzo Ducale tre giorni di divertimento per grandi e piccoli per giocare con le famose costruzioni Lego Sport le strade di Roseto si tingono di rosa ciclismo presentata la tappa del Giro d'Italia femminile di mercoledì 5 luglio evento che sarà trasmesso in diretta dalla RAI noi ieri eravamo presenti con le nostre telecamere a Roseto proprio per la presentazione di questo importante evento possiamo dunque andare a vedere il servizio che è stato curato da Jacopo Forcella Assessore Polucci questo per l'Abruzzo è un anno rosa un'estate rosa partita dal blockhouse che terminerà mercoledì a Roseto degli Abruzzi con il Giro d'Italia femminile in mezzo abbiamo avuto anche gli under 23 ma è stata una grande stagione di iniziative volte ad incentivare la promozione territoriale per via e nella sponsorizzazione che abbiamo voluto intraprendere sui grandi eventi un anno dedicato al ciclismo perché riteniamo che sia uno sport dannatamente in positivo popolare cioè rivolto davvero a tutti e che lega professionismo e ovviamente anche la parte dilettantistica e che ha visto davvero l'Abruzzo essere protagonista è una grande vetrina è un grande modo per promuovere il territorio ed è diciamo l'occasione per coniugare oltre alle iniziative sportive anche quelle altre iniziative che legano il mondo dell'economia il fatto di investire sulla ciclopedonabilità e allo stesso tempo mettere insieme tutti quegli eventi che fanno conoscere il tuo territorio e poi fanno conoscere delle realtà in cui è possibile fare turismo sportivo credo che sia davvero la scelta migliore per quanto riguarda il rilancio della nostra regione è veramente un orgoglio per la nostra città tra l'altro io sono un appassionata di bicicletta quindi auspico sempre di più che la bicicletta sia il mezzo di locomozione anche per muoversi liberamente per le città sì sicuramente questo Giro Rosa è un un qui di in più per la città di Roseto in un momento turistico quindi far conoscere le nostre colline il nostro mare perché prende tutta la provincia di Teramo per finire si parte da Roseto e si ritorna a Roseto c'è tantissimo ciclismo quest'anno in Abruzzo ma del resto l'Abruzzo è una regione che storicamente ha fatto tanto ciclismo ha organizzato tanti eventi che ne so siamo a Roseto possiamo ricordare il meeting dei giovanissimi quindi sono tantissimi tantissimi eventi che l'Abruzzo organizza questo è un anno particolare perché anche in sinergia con la regione con la regione Abruzzo abbiamo portato tutti i giri d'Italia qui in Abruzzo con delle bellissime tappe fino ad oggi grandissimi successi sono convinto che anche Roseto sarà un grande successo perché non sarà forse un percorso impegnativo come quelli degli altri giri però una gara a tappe ha bisogno anche di tappe come queste sarà una tappa per velocissi dove speriamo anche di vedere una ragazza abruzzese di adozione darci vanto andiamo avanti con lo sport siamo nell'ultima parte di mattino 6 torniamo al centro per vedere le prime pagine sportive del giornale Oggi Nedicola si parla di calcio mercato a livello internazionale la Juve spinge per Danilo e poi Verratti Paris Saint Germain addio vicino per l'ex Biancazzurro ci potrebbe essere la possibilità di andare al Barcellone sulle locandine del tour estivo della formazione francese non c'è il volto del talento abruzzese ovvero Marco Verratti e siamo al Pescara le mosse del Pescara Sebastiani dice Coulibaly non andrà all'Inter il centrocampista senegalese non vuole giocare con la primavera il presidente Biancazzurro smentisce la cessione dei baby nerazzurri ma l'operazione con l'Inter sembra praticamente molto vicina alla conclusione poi Di Marco che era seguito dal Pescara firmato per il Sion ma noi andiamo ad ascoltare proprio sul mercato sulle ultime operazioni di mercato e sulle novità delle ultime ore proprio il presidente del Pescara Daniele Sebastiani 1 luglio si apre ufficialmente il calciomercato Pescara presidente Sebastiani però già al lavoro da settimane sono arrivati anche nelle ultime ore i primi colpi soprattutto quello di Gans importante uno giocatore fortemente voluto da Zeeman ma intanto non è nulla di ufficiale stiamo parlando con la Juve di Gans da qualche giorno prima del 30 non si potrà fare nulla perché hanno sicuramente altre cose da fare ben più importanti e poi la prossima settimana cercheremo di definire in maniera tale da avere i giocatori pronti per il giorno del ritiro questione Coulibaly come procedono le trattative questo giocatore molto seguito che però non vorrebbe giocare il prossimo anno in una squadra primavera ma in una prima squadra Coulibaly sicuramente è un ragazzo che ha fatto 10 presenze in Serie A e nella sua mente c'è di continuare a giocare in una prima squadra quindi è chiaro che gli interessi dei club importanti soprattutto Inter e Juve loro nella loro mente hanno anche la Youth League perché hanno le primavere che fanno la Youth League e quindi sarebbe un pochettino da questo punto di vista un motivo di freno da parte del ragazzo però non c'è fretta c'è tempo vedremo se riusciamo a fare qualche operazione anche intelligente come quello che abbiamo fatto l'anno scorso tra Caprari e Biraghi A proposito di Caprari si è letto sui quotidiani che il Pescara da questa operazione tra Inter e Sampdoria incasserebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro è così? più o meno sì Nemushai Biraghi Zampano Benali probabilmente andranno via nella mente di questi ragazzi sicuramente c'è quello di poter giocare un campionato di Serie A però per giocare un campionato di Serie A ci vogliono le richieste io ho già detto a loro a tutti a loro ai procuratori che i giocatori importanti del Pescara non si muovono in prestito secco e quindi siamo già d'accordo su questo punto siccome sono giocatori importanti che con Zeeman o da un'altra parte farebbero comunque bene in un campionato come quello di Serie B quindi noi siamo felicissimi se questi 4-5 nomi di cui tu hai parlato restassero a Pescara che significherebbe non andare a prendere sostituti ce l'abbiamo in casa penso che un giocatore come Zampano possa essere assolutamente inserito nel modulo di gioco del mister come lo è Viraghi come lo è il capitano lo sono anche gli altri Benali può giocare dove vuole quindi non è un problema però è chiaro che le aspettative dei ragazzi sono diverse queste le parole del presidente del Pescara ovviamente da domani con l'apertura ufficiale del calciomercato potranno essere depositati i primi contratti in Lega ovviamente sono attese altre novità in Casa Bianca Azzurra restiamo a Pescara perché ieri sera si è giocata allo stadio triatico la partita del cuore Pescara vince la solidarietà in 1500 per i terremotati e poi andiamo avanti Lega Pro in questo caso parliamo di Teramo dei Biancorossi perché ci sono trattative in essere per la formazione del presidente Luciano Campitelli sfuma però Bob nel mirino i giovani Tulissi e Mazzocchi il mediano del Chievo invece Bob va al Trapani e piacciono i due baby dell'Atalanta interessa anche il centrocampista albanese Alimi e poi dilettante oggi ripescaggi Lanciano attivo ecco Petrone Lanciano che aveva presentato pochi giorni fa il nuovo tecnico Alessandro Delgrosso poi San Nicolò Campanile è il nuovo allenatore l'ex Cologna va ad ereditare la panchina di Epifani e l'Avezzano piomba sulla mezzala Capocasa e poi l'Abruzzo la conquista dei campionati italiani parliamo di atletica perché da oggi a domenica lo stadio Grezzar di Trieste sarà il teatro della manifestazione tra i 17 abruzzesi la più attesa e la mezzofondista Sabatini e poi pallacanestro Campli conferma il coach Milina Mosciano Verrigni è tutto ok Torre Patricielli continua e dunque sarà ancora l'allenatore della formazione torresa e poi ci spostiamo a Chieti dove il Coni ha premiato i 14 migliori atleti abruzzesi consegnati riconoscimenti agli sportivi che hanno brillato nel 2016 da Colleluori alla giudice ecco tutti i trofei il presidente regionale del Coni in Bastaro dice il livello è molto alto e poi pallavolo giovanile in Abruzzo l'edizione 2018 del trofeo delle regioni andiamo in basso per vedere altri titoli il giro d'Italia femminile a Roseto abbiamo visto appena il servizio di Jacopo Forcella e poi atletica leggera meeting di Teramo 300 gli atleti al via lasciamo le pagine dello sport del centro per chiudere con invece le pagine dello sport del messaggero Giampaolo assist a Zeman dopo un anno così brutto si riparte inseguendo un sogno il boemo dice Giampaolo tecnico della Sampdoria darà idee e mentalità poi serve la qualità dei calciatori allegri e sarri agli antipodi ma accomunati dall'estetica di Francesco e una sintesi tra i due e ha meritato la Roma queste le dichiarazioni l'intervista del messaggero del tecnico abruzzese dei blucerchiati e poi calciomercato culibali in stand by si aspetta Di Marco ma come abbiamo visto almeno dalle pagine del centro Di Marco ha firmato anche se nella tarda serata di ieri con il Sion e poi le ha conferma perché per Ugo Campagnaro quasi 37 anni difensore argentino del Pescara il rinnovo è vicino in basso si parla di motociclismo con l'abruzzese Andrea Annone che dice in Germania per risalire ancora siamo la pagina del calcio di Lega Pro e di Serie D e anche degli altri sport Teramo in attacco pazza idea evacuo trattative per tre giovani dell'Atalanta il nuovo direttore generale lo avevamo già annunciato ieri nel corso dei nostri TG il nuovo direttore generale del Teramo sarà Capaldi l'Aquila in attesa della nuova proprietà prova a trattenere invece il bomber Minincleri e poi vediamo Fiore ho scelto Vasto rifiutando molte offerte non mi sono sentito di lasciare la squadra della mia città dunque Fiore resterà a Vasto e poi Beach Volley Lupo e Nicolai in Croazia nel girone dei brasiliani in basso si parla di eccellenza calcio della nostra regione con le manovre di mercato D'Ambrosio resta a Migliani Cospoltore preso Mottola Volley Serie A2 Zanettin ultimo colpo per la SIECO Ortona siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi ma prima di salutarci dobbiamo darvi una notizia che è arrivata da poco in redazione perché c'è stata una nuova scossa di terremoto nella notte vicino ad Amatrice in provincia di Rieti scossa di magnitudo 3.9 registrata alle 2.25 secondo i rilevamenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità con la scossa di terremoto che si è sentita anche seppur non in maniera nitida considerando tra l'altro che quasi tutti gli abruzzesi dormivano questa notte alle 2.25 dicevo la scossa che è stata sentita anche in alcune zone della nostra regione siamo dunque giunti davvero al termine io ringrazio Silvia Gentile per la regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del Tg6 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito